Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. La apriamo parlando di sanità. Il vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari ha denunciato un taglio di 40 milioni di euro per i farmaci destinati ai cittadini dopo i dati resi noti dal Ministero della Sanità che riferiscono come l'Abruzzo sia stata fino ad oggi la sesta regione per spesa farmaceutica in Italia. Il servizio è di Paolo Renzetti. Abruzzo Maglianera in Italia per acquisti dei farmaci. I dati da gennaio a settembre del 2018 non lasciano spazio a dubbi. Siamo la sesta regione per spesa farmaceutica ospedaliere e addirittura la prima nel paese per spesa farmaceutica territoriale convenzionata. A sostenerlo è il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che ha aggiunto parliamo di una delle più importanti voci di costo della nostra sanità cioè il 20% del conto economico del servizio sanitario regionale. Un esborso che andrebbe contenuto con un serio studio e una programmazione che elimini le spese superflue ma che continui a garantire l'accesso ai farmaci per tutti quei cittadini che ne hanno reale bisogno. E invece la regione cosa fa dice Pettinari? Un taglio di 40 milioni di euro senza nessuna programmazione e costringendo le ASL a dare meno farmaci ai cittadini. Abbiamo scoperto che c'è stata una delibera di giunta regionale del 6 maggio 2019 che prevede un tetto di spesa e quindi un taglio lineare di 40 milioni di euro sulla spesa farmaceutica. Inevitabilmente questo provocherà che ci saranno medici prescrittori che potranno prescrivere molto meno e ci saranno meno farmaci all'interno delle strutture. E' un problema serio perché noi riteniamo che per adeguarsi agli standard delle altre regioni italiane non si deve tagliare in maniera ragioneristica sulla pelle dei cittadini che troveranno meno farmaci. E già sappiamo quel problema perché più volte i cittadini hanno denunciato che dovevano portarsi i farmaci da casa nelle strutture ospedaliere e non solo. Noi avremmo programmato in maniera strategica fatto cosa? Imponendo l'adozione del farmaco monodose a dose unitaria che sta facendo risparmiare alle regioni virtuose d'Italia il 20%. Proprio quello che si chiede di tagliare in Abruzzo. Perché non si usa il farmaco monodose? Sono anni che lo stiamo chiedendo e lo chiediamo anche adesso in questo momento alla nuova amministrazione regionale. La informatizzazione e digitalizzazione per sapere la vita del paziente perché oggi il medico prescrittore non sa quello che si è fatto in ospedale, in ospedale non sa quello che si è fatto una guardia medica, la guardia medica non sa quello che si è fatto nel distretto sanitario e quindi si va così all'arrembaggio cercare un attimino dall'improvvisazione, non si può improvvisare sulla vita di un paziente. Poi la formazione, l'informazione, chiediamo un imponente investimento sociale sull'informazione e sugli stili di vita sani perché sullo stile di vita sano si può far ricorrere molto meno all'uso l'abuso di farmaci da parte dei cittadini. Ed ora la cronaca, esplosione nella notte a Montesilvano in via Vestina in Frantumi in seguito alla deflagrazione di un ordigno, la vetrina di un centro estetico. Secondo le prime informazioni si registrano danni al locale e ai vetri dell'appartamento che si trova sopra l'attività. Non ci sono feriti, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che si stanno occupando delle indagini e stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Il forte boato attorno alle 3.30 del mattino è stato udito in diverse zone della città. Rischia di saltare il concerto di Giovanotti sulla spiaggia di Vasto. Il prefetto di Chieti ha bocciato la proposta dell'organizzazione per motivi di sicurezza e da marzo non è stata ancora elaborata un'alternativa. Intanto si offre Pescara per ospitare l'evento, il servizio di Giuseppe Dintino. A Giovanotti c'è chi dice no. È il prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, che ha posto il veto alla tappa vestese del Giova Beach Party. A tutt'oggi è impossibile realizzare il concerto sulla spiaggia di Vasto, ha dichiarato Barbato. La ragione è la scarsa sicurezza dell'organizzazione e quindi il non poter garantire l'incolumità dei fan. Il prefetto si fa scudo della proposta degli organizzatori risalente a marzo. Questa fu bocciata dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e, da allora, mai più rinviata con le modifiche richieste. La data del 27 agosto così rischia risaltare e con essa uno degli appuntamenti più importanti dell'estate vastese. Questa è veramente una roba, una follia. Quasi 40.000 i biglietti già venduti per un giro d'affari legati all'offerta turistica di diversi milioni di euro. Questo lo sa bene Alfredo Cremonese, neossessore al turismo del comune di Pescara, che intende cogliere l'occasione al volo per soffiare a Vasto il concerto di Lorenzo Cherubini. Questo è il vero nome di Giovanotti. Cremonese, che di certo non teme le proteste degli ambientalisti che il Giova Beach Party si trascina dietro per tutta la penisola, ha riferito di aver già ricevuto l'approvazione del sindaco Carlo Masci. Alvia quindi la gara tra le due cittadine costiere su quale spiaggia dell'Adriatico dovrà ospitare il concerto che, per ora, rimane in bilico. Thank you, thank you, thank you so much. E a Pianella è stato sgomberato nei giorni scorsi il centro di accoglienza per immigrati nella frazione di Castellana. Dopo l'ispezione della ASL di Pescara, il sindaco Marinelli ha ordinato un'immediata chiusura per ripristinare le condizioni igienico-sanitarie nella struttura. Il servizio della redazione di Vestina News. Aumento notevole di possibilità di trasmissione di malattie infettive che si possono trasmettere per via aerea come meningococco, pneumococco, streptococco. Questo quanto certificato dagli ispettori della ASL di Pescara dopo un controllo che ha fatto emergere giorni fa una condizione di sovraffollamento presso il centro di accoglienza e soggiorno per immigrati nella frazione di Castellana del comune di Pianella. Infatti la struttura prevede una recettività massima di 9 persone contro le 14 presenti al momento dell'ispezione sanitaria. Subito l'intervento del sindaco del comune Vestino, Sandro Marinelli, che attraverso un'ordinanza ha ordinato con effetto immediato il ripristino delle condizioni igienico e di sicurezza mediante la chiusura dello stesso CAS. Non ci siamo tirati indietro nel momento in cui l'emergenza ci vedeva coinvolti con l'apertura del CAS a Castellana, abbiamo però sempre ritenuto opportuno e doveroso controllare che fossero rispettate tutte le condizioni igienico-sanitarie e di ordine pubblico. Per ben due volte questo non è avvenuto perché prima nel 2018 la Polizia Municipale aveva già verificato un soprannumero e un'irregolarità nella somministrazione dei pasti. Adesso la ASL qualche giorno fa durante un servizio ispettivo ha verificato di nuovo un sovraffollamento. A quel punto evidentemente la prefettura e gli stessi gestori del CAS hanno ritenuto opportuno e necessario chiudere la struttura e quindi è stata dismessa di fatto la struttura su Castellana e gli ospiti probabilmente sono stati trasferiti su altre sedi. Contrario alla chiusura il proprietario del bed and breakfast che ospitava il CAS di via Fonte Catena. Il giorno 12 sono andati via venerdì, poi non so cosa è successo, non lo so, questo io non mi riesco a spiegare cosa è successo, comunque questo è tutto, hanno fatto tutto, non so chi o chi per me o chi per, non lo so, questo posso dire perché questo è quello che so. Vanno pagati gli stipendi arretrati ai dipendenti, è solo una delle sollecitazioni che la Will Funzione Pubblica Provinciale rivolge alla ASL 1 Avezzano sul Monalacuila. Pagamento delle aspettanze economiche arretrate ai dipendenti, apertura di un tavolo di confronto tra i sindacati e l'azienda, nomina entro luglio del nuovo direttore generale. Queste le richieste del segretario provinciale della Will Funzione Pubblica Antonio Ginnetti alla direzione della ASL 1 Avezzano sul Monalacuila. Ginnetti sottolinea come non si era mai visto nella storia dell'azienda sanitaria provinciale che in un periodo feriale non venissero corrisposte le dovute spettanze economiche riferite agli straordinari arretrati, indennità arretrate e alla produttività collettiva dovuta per gli anni 2015-2019. CGL, CISL e Will hanno presentato alla direzione ASL una piattaforma unitaria di confronto sindacale. Hanno chiesto l'apertura di un tavolo di trattative e nel contempo sono tornate a segnalare alla giunta regionale la necessità di procedere con sollecitudine entro il mese di luglio alla nomina del nuovo direttore generale. Passaggio fondamentale per permettere l'assunzione di decisioni mirate a risolvere i problemi in discussione che vanno dal mancato pagamento delle spettanze economiche arretrate ai bandi di concorso a sostegno della carenza di personale alla riorganizzazione e gestione interna dell'azienda sanitaria nonché a una nuova visione della medicina del territorio complementare all'assistenza ospedaliera. Nessuna rivoluzione al traffico ma interventi mirati per snellire la circolazione di auto in città. Corso Vittorio Emanuele, strada parco e aree di risulta le priorità da affrontare. Lo dice ai nostri microfoni l'assessore ai lavori pubblici con delega alla mobilità e viabilità cittadina di Pescara Luigi Elbore Mascia. Oggi la riflessione da fare è una riflessione a 360 gradi. Quella relativa al destino delle aree di risulta, quella relativa al trasporto pubblico di massa, immaginando che finalmente la strada parco possa essere utilizzata attraverso un sistema non più di palificazione elettrica ma attraverso un sistema di mobilità ibrida ma tutto questo in un'ottica prospettica e futura di grande Pescara. E quindi anche qui non soltanto condivisione con maggioranza, con sindaco, con giunta ma anche confronto con i colleghi, con le amministrazioni dei comuni limitrofi. Di Montesilvano, di Spoltore ma anche coinvolgendo dal mio punto di vista il sindaco di Francavilla perché poi Pescara al di là di quello che è il perimetro della grande Pescara e quindi l'implicazione di Pescara, Montesilvano e Spoltore va comunque anche ad avere dei riflessi su un altro comune importante, Limitrofo, che ricade tra l'altro in una provincia diversa che è Francavilla al mare. Senza perdere di vista le grandi infrastrutture di Pescara perché per un decollo, e mai parola più adatta, può essere attribuita all'aeroporto d'Abruzzo, per un decollo effettivo dall'aeroporto d'Abruzzo noi dobbiamo immaginare anche un sistema di trasporto che sia moderno, che sia degno di una grande città, sia degno di un grande comprensorio che è appunto quello futuro, quello che immaginiamo per gli anni futuri, per i prossimi 20-30 anni, che va a movimentare 200.000 residenti e io spero di arrivare anche per quanto riguarda l'aeroporto in prospettiva ai numeri ancora più importanti dei 600.000 passeggeri di oggi. Comune, Azzu e Università di Teramo hanno firmato questa mattina il protocollo d'intesa per la mobilità urbana. Vediamo. L'idea dell'Urban Center vede al centro la mobilità sostenibile, quindi il recupero di parti della città in questo senso. Ovviamente queste parti sono fondamentalmente con le parco, piano d'accio, ma devo dire in prospettiva anche via le Crucioli, quindi con la casa dello studente. Quindi di fatto vedono l'Università protagonista nella fruizione di questi servizi. Noi dal canto nostro mettiamo a disposizione le nostre competenze, il nostro impegno, interventi sia economici che amministrativi, quindi l'Urban Center va nella direzione di rendere sempre di più Teramo una città universitaria. La mobilità, gli alloggi, i servizi agli studenti sono elementi fondamentali di cui le università devono disporre, perché le università sempre più lavorano in un ambito competitivo in cui oltre alla didattica, oltre alla ricerca, devono erogare servizi di qualità. Questo è il ruolo delle aziende per il diritto allo studio, che entrano in gioco laddove gli Atenei non si possono spingere, questi sono compiti istituzionali appunto dell'azienda del diritto allo studio e la mobilità in questo momento, nell'occasione di oggi, è un elemento cruciale. Noi abbiamo puntato su una politica universitaria che parte dal tema l'università al centro, non in centro, perché non è solo esclusivamente un problema logistico, è chiaro che è anche necessario un collegamento forte, importante tra il centro della città e il mondo accademico, universitario e la comunità studentesca, ma il vero obiettivo è portare l'università al centro dell'azione politica istituzionale e iniziative come quella di oggi vanno sicuramente in questa direzione, un ulteriore tassello che affronta un tema enorme, che è quello della mobilità. Strozzato qualche anno fa dopo la scelta di bloccare il percorso del masterplan con la Funivia, l'errore di allora fu questo, cioè che non si mantenne un tavolo aperto per continuare ad affrontare la questione dei collegamenti interni e della mobilità. Oggi con l'istituzione del primo urban center nella nostra città riapriamo un tema centrale che è fondamentale per l'università, ma è fondamentale anche per la nostra città. Sono partiti questa mattina nella centralissima via Regina Margherita a Pescara i lavori per l'installazione della fibra. Presente anche l'assessore alle manutenzioni stradali, Adelchi Sulpizio. Siamo in via Regina Margherita, 17 di luglio, oggi si lavora qui per il rifacimento del manto stradale, assessore. Sì, siamo a pieno regime, oggi stiamo rifacendo il manto stradale. E quello che mi permesso di sottolineare è che a costi zero per l'amministrazione, nel senso che abbiamo con questa convenzione con Open Fiber, che qui ringraziamo, abbiamo la di Pillo che è la city manager di Open Fiber. Anziché procedere al rifacimento, come vedete in immagine, soltanto nella parte di scavo, quindi un metro a ridosso dello scavo, ne stiamo approfittando, abbiamo chiesto in questo contesto di rifare interamente e quindi l'intera via. Oggi quindi saranno delle lavorazioni che guarderanno tutta la giornata, già ci sarà il posto in opera dell'asfalto, inizieremo già nel pomeriggio per poi concluderlo domani, per dare il minor fastidio alla città di Pescara. Siamo contenti perché Pescara, anche come il settore delle manutenzioni, stiamo dando un segnale importante in pieno centro. Oggi qualche piccolo disagio per gli automobilisti ci sarà però? Purtroppo sì, però se noi gli automobilisti, anche grazie al vostro supporto, spieghiamo che questo lo facciamo per eliminare quante buche che abbiamo visto insieme, quindi lo stiamo facendo a costo zero per la collettività, io penso che un giorno, anche una giornata di difficoltà sia ben ritribuita, quindi i cittadini capiranno e da domani poi se ci ritroviamo qua vedremo anche l'ottimo lavoro. Mi premeva ringraziare Open Fiber che è stata anche in questo senso molto vicino alle istanze di questa amministrazione, ripeto procedendo a rifare interamente a costo zero per la collettività tutta la via. Approvato all'unanimità il bilancio 2018 del Confì di Impresa che nel medesimo anno ha prestato garanzie ai soci per oltre 1 milione e 200 mila euro. Il servizio? È stato approvato all'unanimità il bilancio 2018 del Confì di Impresa Abruzzo nell'Assemblea che si è svolta nella sala Ferdinando Buccella a Lanciano. È il primo bilancio dopo gli adeguamenti alle normative vigenti che hanno richiesto la trasformazione della cooperativa in società per azioni e la revisione dello statuto. È stato un anno intenso, ha dichiarato il presidente Fabrizio Bomba. Nella SPA il bilancio viene verificato da KPMG. Nel 2018 Confì di Impresa ha prestato garanzie ai soci per oltre 1 milione e 200 mila euro a dimostrazione di un Confì di attivo e patrimonializzato, mentre le garanzie complessivamente prestate ai soci ammontano a circa 4 milioni e 700 mila euro nel manifatturiero, nel settore idile e nelle attività commerciali. Un bilancio positivo che consente in un futuro non certo facile, soprattutto per le piccole imprese, di trovare nel Confì di un utile alleato. La prima cosa che ho detto quando mi sono insediato è di aprire le porte, insomma di avvicinare il socio all'interno del nostro Confì di, perché noi a differenza delle banche siamo un po' il braccio, siamo un po' quello che i soci si aspettano, nel senso siamo l'anello di congiunzione tra l'impresa e la banca. Alla presentazione del bilancio è intervenuto anche l'assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo. La trasformazione è dovuta per leggi, ma bisogna avere la capacità anche di fare questa trasformazione. Quindi aver fatto la trasformazione significa che è una di quelle aziende, di quelle cooperative su cui la Regione conta, conta soprattutto perché l'ossatura della Regione Abruzzo ha un'ossatura importante come aziende di grandi dimensioni, ma noi ci rivolgiamo al nostro apparato produttivo al 93-92% composto da piccole e medie aziende. Sono quelle a cui noi dobbiamo, come Regione e come ente, rimanere il più vicino possibile. Credo che ci sia stato un momento di poca attenzione nei confronti di questo mondo. Noi intendiamo invece riportare l'attenzione sull'apparato produttivo, quello importante, che dà un pillo significativo per la nostra economia. Gli chef stellati all'opera per una cena di beneficenza nella sede del Consiglio regionale all'Aquila. L'evento si terrà il prossimo 5 agosto e il ricavato sarà devoluto alla Onlus, l'Aquila per i più piccoli. Vediamo. Dopo le numerose iniziative culturali, questa volta a Palazzo dell'Emiciclo andranno in scena gli chef stellati abruzzesi. Non è la prima volta che la sede dell'Assemblea regionale presta le sue strutture per una serata di beneficenza. Ed anche per questo evento il ricavato avrà finalità sociali e sarà devoluto alla Onlus Aquilana, l'Aquila per i più piccoli. Questa mattina la presentazione dell'evento, che si terrà lunedì 5 agosto, che ha ricevuto il patrocinio del Consiglio regionale, del Comune dell'Aquila e del nono reggimento degli Alpini. Il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha rinnovato la disponibilità di Palazzo dell'Emiciclo ad ospitare eventi di natura sociale. Alcune delle nostre eccellenze enogastronomiche mettono al servizio anni e anni di studi, ricerche e sacrifici per una raccolta fondi benefica, ogni anno puntualmente consegnata. Noi siamo qui solo per sottolineare con le strutture del Consiglio regionale, con gli spazi che metteremo a disposizione di coloro che vorranno partecipare, la gratitudine del Consiglio regionale, che ospita con grande piacere questa iniziativa. Nel merito della serata è entrato lo chef William Zonfa, promotore e organizzatore dell'iniziativa. La cena prevede sempre ed esclusivamente un tetto massimo di 100 coperti, dove il tutto verrà devoluto all'Aquila per i più piccoli. Una onlus che collabora con l'ospedale dell'Aquila che dà la possibilità ai bambini prematuri di avere vicino sempre i genitori anche se non ne hanno le possibilità. Le prenotazioni si possono fare chiamando il numero che è sulla Lugandina, quindi 0862 41 49 83, che è il numero del Magione Papale, oppure mandando una prenotazione tramite mail a infochioccioamagioneprovali.it. Mentre il comandante Paolo Sandri ha ricordato come gli alpini si sentano sempre in prima linea quando c'è da fare qualcosa per l'Aquila per i più deboli. Per noi fare qualcosa di concreto per l'Aquila e per una onlus così importante è un dovere, ma è anche un piacere, perciò siamo in campo, saremo in campo con, come diceva lei, una cucina campale, un team di operatori, i ragazzi del nono e sono certo sarà una serata da ricordare. Apriamo ora la pagina dello sport, lo facciamo con la Serie B. Ieri sera l'attaccante Marco Tuminello ha firmato il contratto che per questa stagione lo lega al Pescara. Il giocatore arriva in prestito dall'Atalanta e da oggi lavora con il gruppo nel ritiro di Palena. Domenica la prima uscita per i Biancazzurri, sempre a Palena, alle 17 contro la Delfino Flaccoporto, squadra del campionato di eccellenza, biglietti in vendita nelle ore antecedenti, l'amichevole, al prezzo di 5 euro. Ai nostri microfoni il portiere Vincenzo Fiorillo parla di questi primi giorni di lavoro e della prossima stagione. Ascoltiamolo. Passano gli anni, passano le stagioni. Vincenzo Fiorillo è sempre più giocatore del Pescara, sempre più biancazzurro dentro. Sì, questo è il sesto anno, ma ho lo stesso entusiasmo del primo anno, dico la verità, anzi col passare degli anni più giovani si vedono arrivare, più l'entusiasmo deve crescere perché se no ti fanno capire che stai iniziando un po' a invecchiare, invece tenendo l'entusiasmo alto riesci sempre a lavorare, divertirti e essere un buon esempio. Pochi giorni di ritiro qui a Palena, che ambiente c'è, che clima c'è, ci sono diversi nuovi giocatori, ma c'è un nucleo storico che anche quest'anno è pronto a far bene con la maglia biancazzurra? Sì, sono arrivati tanti ragazzi, tanti giovani, però mi preme sottolineare questo nucleo storico che comunque nei momenti più difficili del Pescara ha saputo sempre unirsi e tirarsi fuori dalle situazioni un po' più complicate, sono tutti tra virgolette vecchietti che meritano e danno una grande mano. Diceva in conferenza stampa Zauri, ambiziosi ma non presuntuosi, quali sono secondo te gli obiettivi del Pescara nella prossima stagione? Io che ormai sono qui da un bel po' di tempo conosco bene quelle che sono le esigenze di questa piazza che di sicuro non vuol vivere di campionati anomali, nemmeno noi però sappiamo che per costruire un campionato importante ci vuole tanta umiltà e ci vuole tanto lavoro, adesso abbiamo cominciato, c'è da metterci tanta voglia e tanto sacrificio per costruire qualcosa di importante, bisogna passare appunto dal duro allenamento. Far meglio dell'anno scorso non sarà facile, arrivati ad un passo dalla finalissima playoff ci proverete? Beh, non sarà facile senz'altro ma lavoriamo con il sogno di arrivare fino a lì, però ripeto stiamo guardando già troppo lontano perché in mezzo ci sono veramente una marea di sacrifici da fare e di obiettivi che arrivano prima di quello in fondo. Da Baby Pillon a Luciano Zauri ritrovi come allenatore un tuo ex compagno di squadra? Beh sì, mi era già successo l'anno scorso tra virgolette con il vice allenatore Pesoli, è una cosa che mi fa piacere, mi fa capire che gli anni stanno proseguendo ma non cambia nulla da parte mia, il rispetto dei ruoli che ho avuto per qualsiasi allenatore che ho avuto lo avrò, anzi ne avrò di più nei confronti di un allenatore con il quale ho giocato, che dando appunto l'esempio giusto e rispettandolo, rispettandolo e avendo il giusto approccio ha due ruoli diversi. Non è un mistero che il Pescara voglia riportare in riva all'Adriatico Riccardo Sottil ma all'esterno continua a impressionare il tecnico della Fiorentina Montella Sottil che nella scorsa notte qui vediamo le immagini, ha segnato una rete di pregevole fattura, è stato il gol partita nella gara di International Champions Cup che i viola hanno vinto contro i messicani del Chivas per 2-1, gara che si è giocata nella notte appunto a Bridgeview nei pressi di Chicago. E ora scendiamo in Serie C, Tommaso Cancellotti, il nuovo esterno destro del Teramo, ormai ex cittadella ha trovato l'accordo per un contratto di due anni con la società Biancorosa che ieri ha ufficializzato anche l'attaccante Lorenzo Pinsauti. Il servizio di Jacopo Porcella. Tommaso Cancellotti è il nuovo terzino destro del Teramo, il colpo chiuso nella giornata di ieri dalla dirigenza Biancorossa il decimo della campagna estiva del Diavolo. Arriva dalla cittadella a titolo definitivo e firmerà un contratto di due anni andando a rinforzare la linea difensiva a disposizione di Bruno Tedino che ieri ha visto l'arrivo ufficiale di un altro attaccante, Lorenzo Pinsauti. Anche per l'ex Ponte d'Era un contratto fino al 2021. Per quanto riguarda Cancellotti un affare davvero di alto profilo per la squadra Biancorossa, l'esterno cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria. Nelle passate stagioni ha avuto esperienze con la Pro Vercelli, la Juve Stabia, il Gubbio e appunto quel cittadella da cui si è appena separato per tornare in Lega Pro e darsi una nuova opportunità in carriera. La ricerca adesso si sposterà su due interni di centrocampo, anche considerando il fatto che nelle intenzioni dell'allenatore Carlo Ilari potrebbe giocare nel ruolo più delicato, quello a ridosso delle due punte. Che linea teorica in questo momento ci sono, senza considerare i reduci delle passate stagioni? Da lunedì a Celano infatti la prima linea dovrebbe essere già completamente nuova. Intanto sempre per la mediana, tra qualche ora Simone Santoro dovrebbe raggiungere Tedino in Abruzzo. Dopo le mancate iscrizioni in Serie B e C, infatti da martedì i tesserati di quel club che non parteciperanno ai campionati sono svincolati. Tranne però quelli del Palermo a causa dell'ennesimo ricorso, senza però speranze di buona riuscita della società Rosa Nero. Dunque bisognerà aspettare ancora un po' prima di poter avere il centrocampista che nelle intenzioni può fare il cambio del rigone oppure piazzarsi su uno dei due lati della mediana. Prestissimo invece ci sarà la composizione dei gironi di Serie C col diavolo che sembra indirizzato verso quello meridionale. Al sud inevitabilmente la favorita d'obbligo ai nastri di partenza sarà il Bari di Aurelio dell'Aurentis, poi Ternana, Catanzaro, Vellino, Regina, ma le ambizioni del diavolo, soprattutto considerando l'impegno economico di Franco Iachini, non sembrano essere quelle di un torneo visto dalle retrovie. Gli investimenti sono stati tanti e saranno ancora cospicui per il futuro, per un campionato che non sarà di sicuro un remake delle stagioni travagliate che il Teramo vuole mettersi definitivamente alle spalle. Ora il basket dopo il no della Comtec, ieri il Consiglio federale della FIPA escluso dalla Serie A2 l'amatori Pescara, la decisione è stata notificata alla società nel tardo pomeriggio di ieri e ora il club riflette se presentare ricorso, c'è tempo fino al tardo pomeriggio di domani o se cercare una riammissione in Serie B, in servizio. Dall'inferno al paradiso e ora di nuovo all'inferno, è l'incredibile parabola dell'amatori Pescara, la società che appena un mese fa aveva riportato la palacanestro pescarese nell'Olimpo della Serie A2, categoria che però non disputerà. Ieri infatti il Consiglio federale ha recepito le indicazioni della Comtec, l'organismo di controllo in materia economico-finanziaria per le società di basket, chiamata, come avviene per la Covisoc nel calcio, a verificare la correttezza della procedura di iscrizione ai campionati e la rispondenza dei bilanci a determinati parametri che garantiscano la stabilità e solidità del club. La Comtec ha espresso giudizio negativo e il Consiglio federale ha escluso dalla A2 l'amatori. Il club, guidato dal presidente Carlo Di Fabio e dal vice Luca Donofrio, ora può inoltrare ricorso contro la decisione del Consiglio federale per vedersi riconosciuto il diritto a giocare in A2, ma in caso di molto probabile bocciatura si ritroverebbe fuori da tutti i campionati con l'eventuale necessità di ripartire dal basso. L'altra strada è concentrare tutte le energie per salvare almeno la Serie B, richiedendo in extremis una missione a quel campionato che aveva appena lasciato con una promozione, sfruttando alcuni vuoti di organico. Soluzione quest'ultima che sembra più realistica. A tal proposito, ieri sera è stato diramato un comunicato dalla Amatori che recita così. Il Consiglio direttivo della società, riunitosi in data odierna, in seduta plenaria, preso fatto di quanto stabilito dal Consiglio federale FIP e notificato ufficialmente del tardo pomeriggio, si riserva ulteriore tempo di riflessione, al termine del quale darà comunicazione di quanto deciso. Insomma, la società continua a riflettere sulla strada da intraprendere. C'è da immaginare lo sgomento, sì, della società, ma anche di chi in campo ha realizzato il capolavoro promozione. Dai giocatori, alcuni dei quali erano stati già confermati, ma soprattutto Stefano Raiola, il coach pescarese che aveva coronato il sogno di riportare Pescara in Serie A nel suo primo anno da allenatore, lui che da ragazzino tifoso aveva vissuto sugli spalti oltre 30 anni fa la medesima impresa. Quella stessa Pescara che a livello di tessuto economico ha fatto sentire da soli i vertici dell'amatori che non avrebbero ricevuto dalla città quel sostegno in termini di nuovi ingressi e o sponsorizzazioni che potessero far sopportare il salto di categoria. E' pur vero che il tempo tra la promozione sul campo e i termini per l'iscrizione era piuttosto ristretto e creare nuove partnership non era semplice, a questo si sarebbe potuto lavorare nelle successive settimane. Ma tant'è, ora l'amatori è fuori e viene anche cancellata una incredibile storia di sport. La squadra, lo ricordiamo, era stata eliminata in due partite, il primo turno di play-off da Reggio Calabria, la successiva esclusione del club Regino e annesso ripescaggio hanno dato il là ad una cavalcata straordinaria passata per le vittorie nelle serie con Nardò e Salerno e poi quella con Sansevero nel concentramento di Montecatini, dunque dalla eliminazione alla serie A. Oltre all'amatori, la FIP non ha ammesso in A2 la Auxilium Torino, il loro posto sarà preso da Caserta e proprio da Sansevero. 23, grazie per averci scelto.